Una delle peculiarità che il mio content management system e che non ha nessun altro, però non ha nessun altro, integrato alla perfezione come il mio content management system, è l'aggregatore di notizie. Il mio content management system riesce ad agganciarsi a delle sorgenti RSS e ad aggregare le notizie. Ecco, molti diranno, ma l'aggregatore non l'ha inventato. No, in realtà l'aggregatore l'ho inventato io già dieci anni fa, il mio CMS, quando ancora non esisteva i feed RSS, io avevo già l'aggregatore, il mio content management system lavora in questa maniera qua. Lui attinge dalle fonti RSS, ma al contrario di altri content management system che fanno questo, lui riesce ad acquisire l'intero contenuto del feed. In particolare, se il feed lui vi propone solamente i primi 400 caratteri di un articolo, il mio riesce a salire alla sorgente, ne capisce la semantica, estrapola tutto il contenuto, riesce ad andare negli altri siti internet e a tirare su tutto il contenuto testuale degli articoli che vengono esposti nel feed. Ecco, questa caratteristica qua non ce l'ha nessun altro content management system e la cosa interessante che lo fa anche in maniera dinamica, ovvero i contenuti estrapolati dal content management system non risiedono all'interno del vostro servizio di hosting, ma vengono di volta in volta presi direttamente dalla sorgente e cacheate. In questo modo non ruberà spazio al vostro servizio di hosting. Ecco, questa è una caratteristica molto interessante, l'aggregatore del mio content management system che dà la birra a qualsiasi altro plugin o prodotto analogo nel mercato. Per chi volesse conoscere meglio il mio content management system, si vado a vedere anche i prossimi video. Alla prossima! Grazie a tutti!